buongiorno a tutti signori buon sabato oggi non è un sabato qualunque perché siamo in compagnia siamo in compagnia di gabbo che salutiamo come stai gabbone ciao ciao luca ciao a tutti sto benissimo come ti dicevo anche offline un po stanco ho qualche centinaio di ore e di sonno da recuperare però per il resto tutto bene ma perché è appena finito di giocare è appena finito di giocare mila roma 52 sei ancora vestito vedi sei ancora vestito è stato quello anche te a milan nel 5 allora ragazzi noi abbiamo registrato anche un contenuto che è uscito sul canale gabbo proprio in questo istante quindi prima di di continuare la visione o dopo la visione voi andate sul canale di gabbo dopo la visione lasciamo qui nel titolo in descrizione tutti i link per raggiungerlo andate ad ascoltare anche l'interrogatorio che mi ha fatto è stato cattivo è il fatto delle domande ma non è vero non è vero non è vero non ha fatto niente niente di che e adesso invece ci divertiamo un po a disturbarlo noi intanto gabbo ti faccio una domanda secondo te la stagione della roma e la stagione della juve sono in qualche modo collegate traduco eh entrambe hanno avuto un esonero a stagioni in corso eh con due allenatori che sulla carta sono due allenatori tra i più vincenti eh della storia del calcio recente tra italia eccetera eccetera due allenatori di un palmares elevato e poi entrambe invece le squadre arrivano alla conclusione che è necessario un taglio col passato la roma con dei rossi ritrovando anche eh un po' di di romanismo se se mi passi il termine la juve invece è di risultati esatto invece la juve fa una vera e propria evoluzione con un giocatore che con la juventus nulla a che vedere però vanno entrambi da allenatori di palmares ad allenatori emergenti quindi vedi una sorta di similitudine tra le due squadre io sì vedo tante similitudini per quanto non possiamo paragonare la juventus e la roma certo una squadra abituata a vincere a stravincere a dominare campionati anche per tanti anni però nel nostro piccolo sì ho visto tanti punti di contatto e secondo me la cosa che abbiamo più di tutte in comune ad oggi a prescindere dal fine non gioco eh che faceva tra virgolette murigno e che faceva allegri cioè due squadre abbastanza simili da quel punto di vista faticavamo tanto nel nel creare se poi seppur poi comunque ogni allenatore murigno e allegri non li possiamo definire identici come no come dettami tattici però secondo me la cosa che che ci lega più che mai in questo periodo storico è è la mancanza di mentalità cioè quella mentalità che nella juventus come dico sempre io ha è riuscita negli anni partendo da quelle basi della juventus di conte a costruire un clima di terrore sì intorno a sé cioè quella paura perché io da tifoso della roma quando vi affrontavo in quelle stagioni avevo e credo fosse un clima di paura in realtà che si rifletteva anche sui giocatori che scendevano in campo contro di voi la paura di affrontarvi perché tante tante volte prima di cominciare la partita sapevamo già che non c'era speranza quel clima che la juventus di mentalità così forte che era riuscita a creare la juventus ha man mano negli anni poi con non solo con l'allegri bis ma anche già partendo da sarri da pirlo piano piano nonostante comunque la juventus ha continuato a vincere qualcosa secondo me si è perso quello e quando manca quello all'interno del gruppo poi le squadre avversarie quando ti affrontano non hanno più paura io credo che parta tutto da lì noi nel nostro piccolo ribadisco non ci possiamo paragonare alla juventus però nella roma è sempre stato un problema proprio insido del dna la roma nei momenti clou della stagione perché poi può anche dimostrare mentalità per alcuni tratti è tante volte ci siamo lottati scudetti una volta col milan una volta con l'interna volta con voi ma poi ricorderai bene arriviamo fino a un certo punto e poi si con noi avete fatto se vado errato se non vado errato 87 punti credo che sia stata una delle stagioni più positive per la roma in quegli anni lì quindi assolutamente però poi arriviamo sempre nel momento clou della stagione nel momento in cui serve quel passo in avanti e come dico sempre io non è una questione di gambe non è una una questione di stanchezza fisica c'è sempre di mezzo alla mentalità credo che questa sia la cosa che in assoluto ad oggi a comuni di più roma juventus ribadisco con le dovute proporzioni eh però manca quello secondo me io concordo sulla lettura proprio dello status della mentalità io ho negli occhi ancora eh delle inquadrature che si facevano no prima delle partite nei tunnel quando c'erano i giocatori della juve la formazione della juve e gli altri le formazioni di squadre magari anche minori di di quelle squadre che arrivavano per le prime volte a giocarsi delle partite allo stadium e avevano vedevo proprio il terrore negli occhi di questi calciatori perché sapevano che fare un punto con la juventus erano imprese invece adesso anche delle squadre neopromosse arrivano a torino e si fanno tre punti non ti stupisci neanche perché non hanno paura soprattutto non hanno paura cioè secondo me è proprio quello eh parte tutto da lì io l'ho sempre detto il calcio è soprattutto mentalità è soprattutto testa sono d'accordo e ti faccio una domanda eh juve e roma sono state unite quest'anno eh da da un giocatore in particolare ha fatto sei mesi da noi e sei mesi da voi da noi ha giocato veramente troppo poco perché ha giocato soltanto a san siro contro il milan qualche minuto invece con voi era partito forte per poi cadere un po' è un po' più nel dimenticatoio ovviamente stiamo parlando di Wisen ti ti domando eh come l'hai visto? È cresciuto? È un giocatore che terresti volentieri? Lo acquisteresti? Allora dobbiamo partire dal presupposto che mi è sempre piaciuto come profilo mi è sempre piaciuto come calciatore perché poi non è il classico difensore eh che sa fare solo la legna diciamo vecchio stampo lo stamma della situazione a cui non potevi minimamente chiedere un compito di giocare con la palla se è una costruzione del gioco è un difensore sicuramente moderno no? Moderno. Ed è quello che mi è sempre piaciuto perché se c'è una cosa che penso io nel calcio di oggi è che se c'hai un difensore con queste caratteristiche se tutti i calciatori sanno fare tutto ormai l'attaccante non può più saper solo attaccare deve deve sapere anche difendere e viceversa deve essere anche per il difensore sto ragazzo è giovane è di grandissima prospettiva c'ha delle caratteristiche infinite secondo me sotto questo punto di vista è è bravo anche ad aggredire gli spazi perché è uno stile calcio totale della dell'Olanda dei bei teppi no? È uno che vedrai perfettamente all'Atalanta un calciatore del genere secondo me diverrebbe con Gasperini eh che che si siano quello che ha detto secondo me sarebbe il difensore perfetto per eccellenza e non sarei meravigliato qualora ve lo chiedessero poi so che ci sono in mezzo delle dinamiche richieste di calciatori dell'Atalanta da parte della Juventus ho sentito qualcosa in merito chi lo sa quello che potrebbe accadere però lo acquisterei assolutamente assolutamente il valore la valutazione del calciatore ad oggi non è bassa però se io se io avessi soldi da spendere non ci penserei su due volte a a tenerlo per quanto come dici te eh si è assestato un po' su dei livelli un po' più bassi era partito molto meglio c'ha avuto un'incertezza in una partita ti chiedo scusa non ricordo ha commesso un errore sì che poi è stato sostituito credo da De Rossi a fine primo tempo è quella adesso non mi ricordo qual è però e da lì ha perso un po' la fiducia di De Rossi diciamoci la verità perché poi Mourinho e De Rossi su questo ragionano in maniera molto differente è anche rispettoso paragonare ad oggi Mourinho e De Rossi perché De Rossi ha appena iniziato certo Mourinho sicuramente ha quel qualcosa in più di esperienza però eh al netto di tutto è un calciatore secondo me che che per il futuro può diventare importantissimo non sarei stupito neanche qualora la Juventus dovesse decidere di di tenerlo eh ovviamente non come titolare ad oggi però è uno che sa però ti ha convinto è uno che sa costruire il gioco e è ancora acerbo mettiamola così perché i margini di miglioramenti di miglioramento ci sono deve però deve però migliorare in alcune situazioni anche dal punto di vista della personalità secondo me quel qualcosina in più ogni tanto sembra un po' tirato un po' timido però se scende in campo in quella partita in cui è entrato sin da subito no nel vivo del gioco è veramente bravissimo veramente bravo anche dal punto di vista realizzativo vede la porta infatti io io ti ho fatto questa domanda perché ho letto alcuni tifosi della Roma che in realtà non sono proprio d'accordo con questa cosa non sono stati conquistati dal ragazzo però secondo me a volte si sottovaluta il fatto che è la prima nata in serie a ed è un ragazzo che ha 19 anni al momento quindi secondo me sarebbe strano il contrario no se avessimo un ragazzo di 19 anni che ti difende come nesta del 2006 direi cavolo è una piazza molto esigente dove al primo picco e questa è una grave come ti posso dire è una grave pecca della nostra tifoseria si tende si succede anche in altre tifoserie però che sia il giovanissimo che sia anche peggio se è uno un po' più però se arriva con un tot di aspettative e primo errore le delude diciamo che intorno si fa un po' di terra bruciata e a me dispiace sta cosa perché anche poi rientriamo sempre nel nel gioco della mentalità di una squadra la mentalità di una squadra la fa anche tutto ciò che li circonda eh quindi anche gli umori della tifoseria se una tifoseria ti sa aspettare se una tifoseria non ti punta il dito alle prime difficoltà l'abbiamo visto con l'Atalanta l'abbiamo visto col Bologna piazze poco esigenti o che comunque sono un po' più elastiche da questo punto di vista ti fanno lavorare molto più tranquillamente perché poi non so tutti i fenomeni non so tutti i Maradona i Messi Cristiano Ronaldo ibraimovic della situazione che dinanzi a una critica i fischi non guardano in faccia a nessuno c'è chi ovviamente dal punto di vista della personalità ne può risentire e noi a Roma ti potrei fare tantissimi esempi scicchi i turpe ai primi fischi ci sono calciatori che smettono praticamente di giocare a pallone beh noi abbiamo andato via TTR prima dell'expload quindi direi che siamo i re di tutti i re da questo punto di vista ascolta Gabbo piccolo giochino che si divide in due fasi tu sei Cristiano Giuntoli sì è appena andato via Massimiliano Allegri e devi scegliere l'allenatore giusto per la Juve Tiago Motta secondo te l'allenatore giusto per la Juve o ne avresti preso un altro allora ad oggi ti dico di sì ok dico che per anche il piazzamento che ha ottenuto il Bologna per quello che ha dimostrato Tiago Motta se vuoi ripartire se vuoi rifondare perché alla fine di questo parliamo no eh è l'allenatore migliore in Italia perlomeno eh poi ti dico la verità guardando all'estero guardando a quel Jurgen Klopp messo lì così so che stiamo facendo veramente fantacalcio eh perché poi da quello che ho capito Klopp non vuole continuare proprio ad allenare almeno per il momento io avrei fatto un pensierino su quel profilo avrei però capisco anche bene che inserire nel contesto italiano un allenatore come Jurgen Klopp non è che arriva e fa i miracoli gli va dato tempo gli hanno dato i calciatori quella è stata la mia prima idea però dal punto di vista delle cose più fattibili in ambito italiano uno che conosce il campionato italiano ecco scommettere su una scommessa che però in un anno si ha dimostrato veramente no il massimo di più di più che facevi anche te eh senza pressioni che hai riuscito a portare praticamente a livello della Juventus il Bologna perché il campionato questo con cacciatori che sulla carta con un valore rosa generale che sulla carta imparagonabile con quello dei bianconeri come dicevi te anche col fatti col subiti siamo lì cioè sono altamente paragonabili i campionati di Bologna e Juventus se sono paragonabili e Tiago Motta è stato l'artefice di questo ma io prendo Tiago Motta tutta la vita sì te dici nell'impossibilità di arrivare a Klopp per motivi economici e per motivi suoi lavorativi Tiago Motta che sembra la scelta giusta è la scelta assolutamente migliore possibile e ti dirò di più anche un ipotetico Antonio Conte sarebbe stata la scelta giusta nel breve medio periodo ma per ripartire da un ciclo sarebbe stata una minestra riscaldata Conte è fortissimo Conte è il re nel prendere squadre che sulla carta partono indietro rispetto ad altre che riesce a metterla la squadra di turno che sia l'Inter che sia lo Juventus poi davanti a tutte ma avrebbe dato tutto in uno o due anni e poi sareste un'altra volta ripartiti da zero perché Conte più di un tot non me ne vogliono i tifosi del Napoli eh spero possa stare con voi a vita però ragazzi è così è così cioè Conte spreme i calciatori nel breve medio periodo e poi cerca sempre nuove sfide magari chi lo sa poi col Napoli Conte esatto poi magari cambia l'opposto che vince vince qualcosa nel giro di un attimo però per la Juventus per quella che è la storia della Juventus serve aprire un ciclo continuativo negli anni perché una squadra che vince nove scudetti consecutivi vuole provare a ripetere quel quel ciclo e magari vuole provare anche a superarlo perché così è madonna sarebbe clamoroso è possibile è quasi impossibile però io credo che che siano queste le ambizioni della della Juventus per il futuro e allora dato che sei Cristiano Giuntoli queste parole di Cristiano Giuntoli fanno super piacere ora devi costruire per la la Juventus di Tiago Motta quindi eh secondo te quali sarebbero le cessioni giusti quali sarebbero gli acquisti giusti per arrivare a riportare la Juve a creare l'inizio di un ciclo che poi magari sarà di dieci scudetti consecutivi non nove allora una mossa già l'ha fatta ok ed è molto intelligente ok io non so se tu ne sai ne sai sicuramente più di me da quello che ho capito io andrà via a Scesdi per abbassare il monte in gaggi e quello non è di Gregorio allora non è ufficiale questa cosa la volontà della Juventus più che altro di di fare questa mossa Scesdi è un anno di contratto vediamo se se c'entra questa roba qui se no si fa lo stesso discorso invece con Perine si tiene Scesdi per un altro anno fino a scadere comunque l'idea è un po' questa qui però la mossa è comunque tu sei giuntoli tu sei giuntoli quindi se tu che fai la mossa è intelligente per io manderei via Scesdi non perché sul campo non riesce più a dare nulla eh ne farei semplicemente una questione economica di esigenze ovviamente finanziarie però prendi di Gregorio lo paghi una ventina di di milioni di euro MVP della Serie A di quest'anno io sono rimasto anche stupito dalle cifre perché non convocato neanche come terzo portiere all'europeo mi hai fatto un po' ridere però va bene ma avesse giocato in un'Atalanta o in un top club italiano o ancora peggio in un top club estero di Gregorio valeva 40 valeva 50 addirittura 60 quindi è doppiamente intelligente come alla carne e ti garantisci la porta del futuro per i prossimi dieci anni beh dieci forse no sì sui 26 27 sì comunque almeno 5 6 anni è altissimo 6 anni dai al top diciamo per quello che ha dimostrato di meglio secondo me non si poteva fare il rapporto qualità prezzo certo ci sta fossi ingiunto riprenderei calafiori ma subito te lo dico con il rammarico infatti te lo volevo chiedere io quando arrivò murigno sulla panchina della roma ricordo questa cosa fece un post in cui pubblicò una sua immagine praticamente con una lista di calciatori della roma è stata la prima foto che ha pubblicato da allenatore della roma murigno e c'era nome di calafiori sopra come cessione no 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 come come lui stava osservando questa immagine c'era nome di calafiori ok come a dire voglio ripartire dai giovani credo tanto nelle caratteristiche di questo calciatore e poi cos'è andato storto? bodo glint bodo glint è sempre il bodo glint è stato in quel famoso 6 a 1 a bodo ok è stato uno degli epurati ok per questo motivo ok è partito tutto da lì tanti altri calciatori poi sono stati reintegrati con Bulla poi con tutte le situazioni del caso però lui da lì è partita questa scelta e poi non l'abbiamo aspettato grave errore un po' la Uise è quello che dicevi prima no? cioè si vuole tutto subito no? il problema è assolutamente quello io continuo a ribadirlo ma non posso come dire obbligare una tifoseria ognuno poi certo il titolo vive a modo suo certo il falcio è anche questo certo però veramente se potessi controllare la tifoseria chiederei proprio questo chiederei di perché poi vedi ma a noi è successo tante altre volte in realtà tutte le operazioni fatte col sassuolo alcuni siamo riusciti a riprenderceli io rimpiango Frattesi rimpiango Scamacca cioè potrei farti veramente una lunghissima lista di nomi che rimpiango e che avremmo dovuto aspettare poi capisco anche le esigenze della società tanti calciatori sono stati inseriti anche per arrivare ad altri non voglio fare la vittima la vittima di turno però vedo il Calafiori di oggi il fatto che arriverebbe la Juventus con Tiago Motta che lo conosce sarebbe un titolare fisso e inamovibile può solo che crescere ulteriormente cioè entrare in un club con la mentalità vincente come la Juventus cioè per me Calafiori potenzialmente da centrale poi perché con noi partiva da esterno per noi era un terzino sinistro è stato reinventato ne mangio veramente le mani e dico c'è qualcosa che non va ok e due quindi io prenderei io a centrocampo prenderei Coppainers ok cioè il calciatore che secondo me può dare quel qualcosa in più alla Juventus terrei Rabiot tutta la vita ok perché per quanto questa stagione si è ridimensionato per quanto il monte ingaggi insomma andrebbe a gravare altri 7 milioni e mezzo se non sbaglio sì poi con decreto crescita in teoria quindi sì in teoria ho sentito che ne beneficerebbe ancora però prenderei Coppainers secondo me è per come lo utilizza ovviamente Gasperini diciamo che lo utilizza un po' più di raccordo con l'attacco se così vogliamo dire ma secondo me ha delle caratteristiche parecchie volte Gasperini l'ha utilizzato anche più a retrato secondo me è talmente universale come calciatore è talmente intelligente dal punto di vista tattico che forse proprio il centro le caratteristiche del centrocampista che mancano ad oggi all'interno del contesto Juventus ok poi i fagioli di turno quelli questo calciatore che con lotta secondo me da difuso della Roma ho paura scoppiano scoppiano nel vedere Hildiz nel vedere anche secondo me lo stesso Ealing qualora decidessero di tenerlo non lo so quello che potrebbe essere in grado di fare non sarebbe meravigliato qualora se la Juventus non dovesse riuscire a fare mercato qualora veramente la formazione tipo partisse partisse proprio da loro partisse da tutti questi giovanissimi può essere quindi Hildiz Ealing diciamo che poi dipenderà sempre da da quelli che saranno i tentami tattici di Tiago Motta ipotizzo che giocherà come ha giocato col Bologna poi non mi meraviglierei perché lo conosciamo Tiago Motta difesa 3, difesa 4 poi decide quindi 4-1-4-1 dici comunque di partenza non si può mai sapere quindi Ealing su Sule non lo so probabilmente verrà ceduto però ecco Ealing Ealing già lo stesso Fagioli anche lo stesso Miretti sono calciatori importanti uno tra Chiesa e e forse Vlaovic a sto punto chi lo sa lì entreremmo in un altro discorso nel caso di Vlaovic perché poi dovresti trovare un sostituto da quello che ho capito anche se mi stupisce la cosa e non so quanto sia veritiera non stravede per Chiesa non so se è vera questa cosa dicono che non stravede per Chiesa si sta dicendo si sta dicendo questa cosa però a me sembra anche un po' strana come cosa anche a me mi sembra un calciatore che Motta secondo me è perfetto in realtà per quello che ha fatto vedere al Bologna Tiago Motta con quel dettame tattico messo sulla destra per me Chiesa sarebbe concordo potrebbe diventare importante dicono perché non ha tutta questa capacità difensiva che forse chiede Tiago Motta però per quante partite ho visto del Bologna non mi sono mai soffermato tanto sull'analisi tattica di quel ruolo di quel tassello difende molto basso il Bologna difendeva blocco basso quindi chiedeva comunque un sacrificio anche agli esterni di rientrare quello lo chiedeva assolutamente però Chiesa allora è alquanto attendibile sotto questo punto di vista però ti dico non perché potrebbe parlano di Chiesa alla Roma però se proprio dovessi rinunciare a qualcuno no più che altro per fare una gestione importante per provare a prendere pop mainers a prescindere se i nomi sono Bremer Chiesa e Vlaovic c'è di Chiesa io a Vlaovic non rinuncio io a Bremer non rinuncio a malincuore tra viricolette rinuncerei a Chiesa ok se arriva un'offerta pesante perché poi Chiesa si è ripreso nella seconda parte di stagione quindi non so a quanto si potrebbe vendere il valore Chiesa Prime non lo so se adesso c'è ma non credo ma no ma no ma anche perché è un anno solo di contratto quindi difficilmente potrei chiedere questo non lo ricordavo questo non lo ricordavo quindi io rinuncerei rinuncerei a Chiesa per prendere il cop mainers della situazione e per prendere in realtà qualche altro tassello poi ne sono uscite tante di speculazioni di nomi ho sentito anche di altri giovani non ricordo come si chiama quel ragazzo del frosinone forse Brescianini Brescianini l'hai sentito no? l'indiscrezione si 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 sta parlando interire profili di quel di quel tipo secondo me io mi muoverei così ma secondo me la Juventus si muoverebbe si muoverà esattamente allo stesso modo credo io la scelta secondo me ci sarà ipotetica formazione di Tiago Motta qual è Cristiano Giunturi c'è la faccia ha detto che Gregorio importa di Gregorio importa è non lo so se il Di Lorenzo della situazione alla fine perché si è parlato anche di lui sembra ci sia una rottura totale ad oggi quindi Di Lorenzo ce lo mettiamo io non lo vedrei male onestamente però non so quanto possa essere fattibile perché poi il Laurenti se chiede 20 milioni la Juventus si prenderà tanto dal mercato se no cioè un'ipotetica un'ipotetica difesa 4 ad oggi tra quelli che ci sono ad oggi alla Juventus cambiaso? cambiaso basso? a sinistra a sinistra sì poi a destra uno tra Danilo e Gatti probabilmente dici Danilo? oh uno tra Danilo e Gatti non lo fa più Danilo da tanto ormai si è plasmato diciamo su un altro non vorrei che facesse proprio la difesa 3 alla fine ma sai cosa no ma sai cosa i terzini di Motta sono molto difensivi alla fine stringono molto quindi sarebbe quasi in realtà un centrale aggiunto quindi potrebbe quasi farlo poi sono d'accordo che anche centrale Danilo sia meglio in questo momento facciamolo allora a destra Danilo per il momento che è sicuramente più attendibile Bremer credo che sia il punto fisso Calafiori dovesse arrivare Calafiori ovviamente può giocare anche sulla sinistra ma con Tiago Motta ha giocato sempre sulla sul centro diciamo sul centro certo e a sinistra allora a sto punto ti metto Cambiaso ok e poi a centrocampo dipenderà da chi arriverà onestamente ok io ipotizzo secondo me Fagioli sarà titolare ok te lo dico senza troppi giri di parole sì 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 beh hai detto Cobb Mainers e Rabiot giusto cioè quindi escludi eh esatto volevo arrivare lì dico escludi Locatelli perché hai detto tengo Rabiot prendo Cobb Mainers se gioca Fagioli io escludo Locatelli cioè sul Locatelli ad oggi eh poi sì sì certo certo escludo che con Tiago Motta possa però ad oggi secondo me c'è paragone tra Locatelli e per quanto Fagioli abbiamo visto 80 minuti ma onestamente eh cioè sei rientrato con quella mentalità se Spalletti lo convoca un motivo c'è quindi per me tanta tanta roba io te lo te la giro in base a quello che penso farà la Juventus Cobb Mainers Rabiot ok credo io sì 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 non so se può essere troppo squilibrata alla fine perché Rabiot è uno che si inserisce parecchio Cobb Mainers che te lo dico a fare però non la vedo una cosa così impossibile Flaovic ok come punta di riferimento lì sinistra destra eh infatti volevo arrivare lì dato che c'è di chiesa volevo capire come come li incastravi chiamatelo Ildiz a sinistra Ildiz assolutamente a sinistra e sulla destra fammi guarda tieni sulle tieni sulle secondo me lo cederanno lo cedi quindi c'è di chiese sulle e vai a prendere comunque una destra perché sennò c'è Weah però non lo so se guarda Weah è un jolly per eccellenza perché può giocare dappertutto però credo che parta nelle gerarchie indietro certo immaginare non ricordo se c'è stata qualche indiscrezione ma non credo c'è sia stata qualche indiscrezione su un profilo di quel tipo sulla destra no principalmente perché oggi hai sia chiesa che sulle e quindi non sai chi dei due partirà se ne partirà uno se ne partirà zero quindi se non arrivasse Goffmaners ovviamente ti metto ti metto chiesa sulla sulla destra altrimenti sì dovrebbe essere preso un nuovo profilo a meno che non decidano c'è to chiesa e tengo sulle e non la vedo una cosa così impossibile in realtà no ma sai perché ti ho fatto sai perché ti ho fatto questa domanda proprio per farti capire quanto in realtà è complicato in realtà il mercato della Juve perché ci sono talmente tante operazioni da fare tra entrata e uscita che c'è anche il sacrificio di sì cedo chiesa perché tengo Bremer io comprendo il ragionamento però poi ti dico sì però allora la formazione rimane un po' scoperta e devi cedere due esterni per prenderne due cioè è un po' un puzzle oggi è vero assolutamente assolutamente però nel puzzle secondo me i giovani se la Juventus effettivamente poi cercherà di cederne il meno possibile cioè la base è proprio quella per quanto poi le fondamenta le fanno determinati calciatori Blaovic Bremer se resterà Rabiot però tanti giovani interessanti Tiago Motta ha dimostrato non solo di saper lavorare con i giovani ma anche di saperli valorizzare di farli overperformare forse anche oltre quelle che sono le loro caratteristiche perché lui gli dà quel qualcosa in più dal punto di vista della mentalità Pola Casperini Pola Casperini eh assolutamente va bene io quindi comunque la squadra te le immagini così e secondo me non andremo tanto distanti anche con la realtà da questa ricostruzione qui ti faccio l'ultima domanda e poi ti saluto quindi una Juve del genere secondo te dove può arrivare tra Serie A Coppa Italia Supercoppa Champions Mondiale per club che percorso fa? Champions secondo me sarà un punto interrogativo per tutti certo per tutti perché c'è il nuovo format ci sono otto partite anziché sei nella fase A girone unico poi ovviamente il format è lo stesso ci saranno ottavi quarti semifinale e finale però poi ci stanno i playoff se non ricordo male non vorrei è ancora un po' contorta per me poi playoff insomma tanti impegni in più quindi non sarà facile neanche da quel punto di vista costruire rose un po' più ampie per dare competitività poi gli infortuni ipotetici potrebbero anche essere l'ago della bilancia sulla Champions non mi aspetto granché dai bianconeri ti dico la verità ma non mi aspetto granché da nessuna italiana perché poi dipenderà anche da come verranno fatti i calendari non ho capito effettivamente quanti big match ci saranno ma è stato fatto questo format proprio per mettere subito a contrasto sin dalle prime partite squadre tante partite con squadre forti quindi se riuscisse a passare almeno ad arrivare agli ottavi secondo me sarebbe già un'ottima base di partenza non credo che la Juventus punti ad oggi dopo tutte queste stagioni tra assenze dei coppi e via dicendo subito in alto sarebbe impossibile toglierebbe troppe forze a situazioni di campionato in campionato con Tiago Motta se veramente riesce sin da subito a ingranare se dimostra di saper reggere la pressione colmare il gap con l'Inter ad oggi ti direi una cavolata grandissima però se overperforma come ha fatto col Bologna per me fino a un certo punto della stagione può lottare per rimanere lì per le primissime posizioni secondo me sì assolutamente sarei meravigliato qualora dovesse riuscire a vincere doveste riuscire a vincere lo scudetto cioè lì veramente la Juventus avrebbe fatto 13 da quel punto di vista e non lo escludo non lo escludo a priori però ad oggi ovviamente la Juve è una squadra l'Inter è una squadra formata c'ha già tutto no? ha già preso Zielinski ha preso Taremi cioè è avanti da quel punto di vista perché c'è un allenatore che la conosce che giocano a memoria vediamo se riesce a colmare il gap anche su quello di Agomotta però non mi meraviglierei qualora lottassero per per stare lì fino a un certo punto della statica anche perché ci sarà anche il Napoli di Conte sappiamo che Conte senza Coppa è solitamente un osso duro quindi ci sarebbe una bella lotta al vertice assolutamente sì e mi aspetto che sia una delle candidate numero uno a rivincere la Coppa Italia ok assolutamente cioè per quanto poi stesso discorso di quest'anno eh il Napoli è successo quello che è successo l'Inter eliminata proprio dal Bologna e Tiago Motta la Juventus magari chi lo sa Tiago Motta ecco lo vedo uno molto non mi sembra uno che no cioè vuole stare col piede dentro più scarpe secondo me Tiago Motta seppur lo farà in maniera ponderata e razionale però credo che che vorrà dare il massimo in qualsiasi competizione ok ok perfetto dai speriamo nel senso da tiposo da Juve io non posso fare altro che sperare che queste previsioni possano avverarsi Ogabbo ti ringrazio per tutta questa discussione secondo me siamo andati allineati su tanti punti anche un po' quello che credo anch'io che accadrà lato Juve ma sono curioso di sapere l'opinione dei ragazzi qui sotto nei commenti e vi ricordo che sul canale di Gabbo abbiamo fatto anche un altro contenuto sempre a tema Juve da andare a vedere io ti ringrazio ti auguro una buona giornata e ci vediamo per un prossimo video magari anche per capire se queste previsioni sono state azzeccate oppure no assolutamente ciao ragazzi grazie a tutti